Il popolo ci può mandare a casa quando ritiene giusto. In tutti questi anni, non siamo dei professionisti che vanno in cattedra e rimangono tutta la vita, ogni 4-5 anni, spesse volte anche ogni 2 anni, abbiamo il tagliando. La gente ci vota, se ritiene giusto ci vota, se ritiene sbagliato ci manda a casa. Questo si chiama democrazia. Chi ama la democrazia ama il popolo che decide. Chi vuole che la democrazia non ci sia più pensa di poter decidere lui al posto degli elettori. Grazie. Grazie. Grazie.